Cosa ne pensi di questa serata? Ci sta per riempirsi e diventare veramente figa credo, però per il momento siamo ancora qua e abbiamo ancora la possibilità di salutare gente. La prima volta che partecipi a una festa di officine artistiche o all'Officine Parneto o una festa di Ciac? Officine artistica. Eh sì. Come va questa serata? Sei scatenatissima? Sei scatenatissima, contentissima, tra poco uscirà il film il 27 novembre, quindi ci stiamo preparando al grande evento. Cosa ne pensi di questa serata? E' la prima volta che prendi parte a questo evento organizzato da Officine Artistica? No, già non stata, altre volte sempre in occasione di eventi di cinema e devo dire che si sta rivelando il luogo ideale per andare sia ad accogliere manifestazioni di cinema e feste belle e ufotiche come queste. E' la prima volta che prendi parte a questo evento di Officine Artistica? Devo dire di sì perché io venendo da un ambiente televisivo in cui comunque sono due mondi che in qualche maniera paralleli ma anche con molte sfide nel senso che c'è cerca questo nombismo, no? C'è sempre questa teatriba televisione, fiction, cinema. Quindi è bello sapere che ci possono unire anche in questi eventi, in questa unione anche così piacevole con gli amici e con degli attori. Quindi essere allo stesso piano. Allora, che ne pensi di questa serata? Come procede? Bene, bene, bene. Non so come si possa fare un'intervista con questo caos ma noi ci proviamo. Bene, bella serata, Officine Artistica è un'agenzia con quale mi sono trovato sempre bene e sono contento. Mi stare divertendo! Troppo! Lei è l'attrice del nostro film! Ma non è vero! Parlaci un po' di questo film, 16 anni! È stupendo! Mi divertirete tantissimo! Venite a vedere 16 anni nelle sale nel prossimo novembre! Qual è il tuo personaggio? Beh, mi beccate in un brutto momento! Io sono Joyce! Lei è l'alternativa! Ok? Grazie, buon divertimento! Ciao! Grazie.